musica 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 avanti ho permesso buonasera ho chiesto ma io ho chiesto e siccome il cuore giovedì grassi in arena al stampanello se li fai allora fa basta che mangiatevi ma fa se vuoi fare qua darei una mamma semmo sede vedo un video che è finito però prima metto una cavalla finito e scaldatore che fu l'ana perchè è successo ora poi andrà a luca ha bisogno a luca finito facciamo un po' sede semmo sede prima finito e prima avaliuta io dovete cantare con la mano della campanella ma prima di una cavalla finito semmo passa pubblica musica 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.